luci d'artista non è solo luci d'artista è tanto altro con eventi collaterali che spingeranno sempre più turisti a conoscere meglio gli spazi della città di salerno ribattezzato ormai all'esterno della campania la città delle luci natalizie tra gli appuntamenti andati in scena subito dopo il sabato dell'happening nel giardino incantato c'è stato quello dell'inaugurazione del giardino della minerva con lo spettacolo lumina minerve suggestioni luminose nell'orto della scuola medica salernitana si tratta di una grandissima novità per l'edizione 2017 di luci d'artista con effetti tecnologici luminosi accompagnati da musiche indimenticabili la storica scuola medica salernitana nel suo giardino dunque diventano un altro dei posti suggestivi da visitare nel percorso di luci d'artista lumina minerve va ad aggiungersi alla splendida mostra dedicata a leonardo da vinci a palazzo fruscione nerve e questa diciamo ma questa allestimento luminoso quindi con delle luci scenografiche all'interno del giardino con una proiezione diciamo di immagini che rappresentano significativamente questo luogo quindi la storia il territorio eccetera è una musica che accompagnerà praticamente questo percorso ovviamente una musica adeguata al luogo quindi una musica dedicata al giardino endel patch bell e vivaldi quindi credo che sia anche una suggestione significativa 20 minuti e si capisce il giardino anche attraverso un certo tipo di illuminazione quindi il giardino fruito anche di sera anche di notte questo è uno degli elementi che stiamo cercando di evidenziare di più cioè le luci non sono solo installazioni luminose ma sono anche un modo per riscoprire o scoprire la nostra città stiamo riempiendo la manifestazione di contenuti culturali penso alla mostra di leonardo alla manifestazione di stasera quindi è un evento che si va arricchendo sempre di più per proporre un'offerta sempre più ampia sempre più variegata e soprattutto un'offerta sempre più di qualità giardino magico ma c'è anche uno scopo pedagogico è un giardino scuola questa sera con queste proiezioni che salteranno i luoghi cospicui del giardino stesso si farà come diceva Luciano Mauro prima e poi Roberto si farà uno sforzo per rappresentare le prerogative di questo luogo simbolico della nostra città luogo della scuola medica serenitana ricco di rimandi storici e rimandi motivi credo che da questo punto di vista quest'anno l'anno scorso tentammo di fare qualche cosa un video mapping alla chiesa dell'addolorata purtroppo c'erano condizioni di luce sfavorevoli nel senso che noi non potevamo chiudere la pubblica illuminazione qui quest'anno invece credo che avremo dei risultati assolutamente suggestivi e diversi avendo la possibilità di gestire interamente i percorsi e gli aspetti luminotecnici il giardino della minera qualcosa di molto suggestivo che abbiamo inaugurato qualche minuto fa grazie mille grazie a tutti grazie